Durante il suo ultimo concerto Grelmos ha preso in mano il telefono di un ragazzo del pubblico e si è fatta un video andandoci un po' troppo spinta Infatti oltre a filmarsi lei ha abbassato il telefono mentre tuercava e come potete immaginare si è visto qualcosa Ora non mi venite a rompere il cazzo con moralismi e robe varie È un personaggio pubblico ripreso in luogo pubblico e soprattutto si è ripresa da sola E non ha detto chiaramente al ragazzo di cancellare il video Chiaramente su youtube vi metterò la versione censurata perché se no mi buttano giù il canale in 30 secondi Ma la versione non censurata la trovate sul telegram Il link per andare sul telegram lo trovate nella biografia del mio instagram Quindi non aggiungo altro voglio sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo alla prossima linea allo studio Noi ci vediamo alla prossima